Quinta corsa premio Mr. Lavec è un miglio, un invito per gli anziani. Sono otto i partenti che fra pochi secondi verranno chiamati a raccolta dallo starter. Quadratura sul mezzo meccanico. In questo istante accende le luci e comincia ora a muoversi. Con numero uno, Over the Moon LF, Mario Minopoli Junior con il due Miglio, Giorgio D'Alessandro Senior con il tre, Primo Ladesi, Tommaso Di Lorenzo con il quattro, Napoleon Caff, Viaggio Lo Verdi, il cinque, Narciso Vuel, Federico Esposito, il sei per Amore Gual, Roberto Vecchione, il sette, Italiano Enrico Bellei. Questa è la prima fila, seconda fila per l'otto di Mineiro S con Roberto Andreghetti. Rinuncia al lancio italiano, parte piano Narciso Vuel, emergono in lotta Miglio e Primo Ladesi con Tommaso Di Lorenzo che cerca di ripiegare dietro all'avversario ma sbaglia Primo Ladesi mentre Miglio completa il lancio in 13 e 2. Nella scia di Miglio c'è Napoleon Caff, poi all'esterno gravita Per Amore Gual con Roberto Vecchione che è rimasto all'esterno punta in avanti. Probabilmente otterrà il via libera da Miglio, così è dopo mezzo giro Per Amore Gual leader e va a completare i 500 iniziali in un veloce 36 secco. Nella sua scia Miglio davanti a Napoleon Caff, poi si muove per primo all'esterno Minero S che si trascina in scia Narciso Vuel, in corda resta over the moon LF, prende la via del largo in ultima posizione anche italiano. Per Amore Gual che dopo lo strappo che le ha consentito di togliere il comando a Miglio cerca di rifiatare il mezzo Miglio iniziale in 59-8, misura tutto sommato normale per la categoria, mentre Miglio viene affiancato da Minero S, quindi c'è Napoleon Caff che è in fuori Narciso Vuel, l'ultima pariglia composta da over the moon LF italiano. Per Amore Gual e Minero S alle prese all'attacco della curva finale nei confronti di Miglio e Narciso Vuel, Napoleon Caff italiano, quindi over the moon LF. Siamo ai 300 finali con Per Amore Gual che accelera e cerca di svincolarsi da Minero S, cala leggermente Miglio, poi Narciso Vuel al centropista prova a spostare italiano, è in vantaggio Per Amore Gual nei confronti di Minero S, poi ci prova Narciso Vuel, quindi Miglio e italiano, Per Amore Gual in vantaggio inseguita da Narciso Vuel, poi lungo la corda si rifà sotto Miglio, poi italiano nel finale Per Amore Gual attaccata da Narciso Vuel, quindi italiano e Miglio sul palo, Per Amore Gual sfugge a Narciso Vuel, mentre per il terzo sono molto vicini, Miglio alla corda e italiano a centropista. Vittoria della favorita Per Amore Gual, Roberto Vecchione, il training di Olga Rellert, 1'57 secco sul mio cronometro, 1'13-1, media naturalmente ufficiosa, gran corsa di Narciso Vuel e Federico Esposito dopo aver agito nella scia di Minero S, Nel finale l'attacco... Per Amore Gual.